Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ventesimo cifra tonda episodio della Soul Link a Pokémon Rubino e Zaffiro Ovviamente che cazzo ve lo sto a dire qui con noi c'è Ciao ragazzi bentornati dal Soul Link di Rubino e Zaffiro per la parte numero 20 Mamma mia oggi con che cattiveri è entrato in questo episodio ragazzi Cioè veramente proprio di arroganza Ragazzi in questo episodio faremo il macello perché Facciamo di tutto ragazzi completeremo i percorsi per fare tante nuove catture insomma Quante per la precisione cioè catture potenziali ovviamente Potenziali ragazzi sono sicure 6 poi vabbè se le cattureremo meglio Però non hai detto Allora mentre ci avviamo verso il prossimo percorso intanto volevo dirvi una particolare cosa Ci dica ci dica Ossia che porca di quella troia No perché l'episodio inizia con un fango bomba che non ha effetto mi piace No volevo semplicemente dirvi ragazzi che verso la via vittoria o la lega non sappiamo ancora quando Sistemeremo il team vuol dire che studieremo diciamo i tipi comunque le statistiche e robe del genere E anche tra i Pokemon del box magari sceglieremo determinate coppie in sfavore di altre Perché ci sono dei casi in queste serie Ad esempio faccio un esempio Giza e Cacturne C'è Giza che da me è abbastanza forte C'è Cacturne che è una pippa E tra l'altro sta affrontando anche YouTube quindi è doppiamente Ottimo perfetto E quindi nulla ragazzi solo per specificarvi che dal prossimo episodio potreste vedere coppie diverse Potreste Esatto quindi non perdete il prossimo episodio sul mio canale Esatto Ah giustamente lasciate un bel mi piace Quanti like chiediamo oggi Luke? Vogliamo almeno 250 parla 300 Rucugiuta ragazzi Ok ok perfetto sì E mi raccomando la campanella e i social passate dal canale del Rochat Che c'erano alcuni che non sapevano che la serie fosse con lui dopo il quarto episodio Dettagli Eh bei tempi bei tempi quelli Bei tempi Comunque sto così qua non muore Madonna non muore Io sono ancora il primo allenatore perché ho tipo perso un po' di tempo Ah sollifero aduazione rimbalzo non lo piglierò mai Ok ma io Sai che questi percorsi qua non me li ricordo per nulla? No Ma proprio zero ragazzi io non li ricordo Oddio venusaur cancro di tipo fuoco ti odio muori Sì ma aspettate un secondo Caterpie cosa è successo? Caterpie è lui È lui Oddio No aspetta come era Non ci credo Non ci credo è uscito Caterpie Madonna raga È uscito Caterpie 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 È uscito Caterpie Ma come ho fatto raga come ho fatto? Non è possibile Bei tempi ragazzi Spettacolo Quando ancora non avevo preso il boost da sta serie Mamma mia Siamo stati in una vita Allora inizia la serie Come passa il tempo Non riesco a far godire i foto Attenzione ragazzi Sono un po' di confuso da buttare in su me Il Roger ti sta impazzendo ragazzi Sta facendo tutto lui Sta facendo No Ok Io sono sul 130 Correpellente ovviamente Perché non si può mai voler troppo Io invece pirla senza repellente Complimenti Gioco Quante allenatori ci sono? Tipo troppi? Tantissimi Infatti ragazzi alcuni li balziamo Perché altrimenti non si va più avanti Li affronteremo magari fuori parte Per il semplice fatto che raga Dobbiamo allenarci per la Lega C'è altrimenti prendiamo botte su botte Esatto Tipo più più comunque Eh stavo Mi stavo scantato Mi so spettato Conto uno scodio 630 Se metto nel titolo Schettino Se la prendono Secondo Mi vado a scantare così Via Eh no Ok Io provo a farla cattura Luke Oddio La torricello è raggiungibile Mi pare che sia nel dopo Lega Ok perfetto Ho trovato il po' Anch'io Chi è? Aspetta Aspetta Togepi Io Crobat ma Perché mi dice che l'ho già catturato Crobat? Non avevi tu un Crobat? Non avevi catturato un Crobat Mi pare Nel box Mi pare che forse l'avevi catturato Allora raga Se mi Io non lo ricordo Se mi dice che l'ho catturato C'era la Spice is Closed Lo faccio però E tu riprova Se ti dice che c'era C'era Pocavol lì Ok Io ho trovato figa Kabutopsan 6 No togepi fa boato Potremmo perdere la cattura Dal momento all'alto Attenzione In che senso fa boato? E come hai fatto a non perderla? Perché ha fallito Ah ok perfetto Continua a fallire boato Ok fantastico Che bellezza Ok io non riesco a prenderlo Sto cancro E anche io Buono sapersi Ok l'ho preso Kabutops Ce l'ho fatta Madonna ragazzi Non ci so Cabutops 5 L'ho preso Già l'ho preso Ok perfetto Pokémon Crostaceo Maschio Un Kabutops maschio Lo chiamo Jurassic Dai ci sta carino Dai ci sta Direi che lo secondo me Molto molto Come è questo Mamma mia E la mia coppia ragazzi È fatta Qualcosa mi dice che non li metteremo in squadra No beh Vediamo sempre dal typing Dalle mostre Eh sì È dal livello Visto che il mio è al 7 No il mio invece è da 23 Quindi mi ha dato un pochino meglio Dal livello Il tuo è già meglio Ok io sto proseguendo Nel frattempo C'è tipo una piana senza allenatori Che cosa strana Sì è vero C'è tipo Non so Non c'è nessun cosa Ah sì sì La torre cielo si sblocca nel dopo lega Perfetto Non ho avuto la conferma Perché c'erano tipo i sassi in mezzo Wow Toggepi aveva a trappo arena Fantastico Sì a trappo arena Oh che bellezza ragazzi 131 giochi Aspetta ma l'abbiamo fatto il percorso 130 Martin Garrix Cioè nel senso l'abbiamo urlato un pochino No non l'abbiamo fatto Cazzo Luke Oh è tutta una serie che lo diciamo ragazzi Sul percorso 130 dobbiamo sclerare Eh invece Si vola E le cubi E veramente le cubi sono esplose Possono Can accompany only Esatto E sul 131 vediamo chi comparirà però Vai tu Luke E tu al 131 Eh sono tutti morti Anche qua di nuovo C'è una strage di Diebola Oh ma dove cavolo siete? Ok la sveglia l'hanno messa Sono arrivati Ok vai Carvagna Caragnè Vediamo io chi trovo Non è questo Carvagna Free Wi-Fi Wooper 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 Vabbè dopo anche si evolve Ah vabbè Wooper si evolve State scherzando Poi abbiamo un episodio intero dedicato alle evoluzioni Poi abbiamo un episodio intero dedicato alle evoluzioni Ho cattuato Carvagna proprio Preso Wooper Vabbè il soprano me è scontato Penso Che è un feroce Wow Wow Free Free Wi-Fi Che è un cavolo che chiamo? Un Carvagna Chiamalo Nemo No Qualcuna roba del genere Nemo Dai chiamiamolo Nemo dai Anche se non c'entra Non c'entra nulla 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 Cazzo ce ne frega Ok Free Wi-Fi preso Madonna che ignoranza Mi ha beccato una neatrice Che mi voleva Mi sta corteggiando Gio Attenzione Ok perfetto Sì dovrebbe essere in questa zona Tipo la torre cielo Dorebbe essere circa qua Sì qua sopra Gio Oddio la in un Strength Direttamente dalla challenge Roc ragazzi Like chi se lo ricorda Mi raccomando Non spinda Non spinda Se trovavo spinda Veramente quittavo la serie Madonna La cattiveria La cattiveria Con cui ho detto Spinda Ho trovato spinda Quittavo la serie Kim botanica Beh Pensavo stessi dicendo Tipo Timbuktu Una roba del genere No no Non sono ancora così impazzito Gio Vai tranqui Ok Beh Regirock con Splash Mi è piaciuto particolarmente Bello Sen Splash Vediamo un po' Sen Splash Beh ma io posso fare Posso fare una serie Seria Con uno che fa Sen Splash Ogni tre secondi Beh Beh A me non faccio Oddio Esatto Questa La cattiveria Allora Però Oh Chi è che gli ho utilizzato Ma no C'ha Sorbi Volt Cazzo non me ne sono accorto Chi è che c'ha Sorbi Volt Chi è Sto corebis di merda Beh Mi mandano in campo Geodude Cat La coppa del grande E lui E Caterpie Anche una volta L'aveva previsto Oddio Oddio Cazzo pensavo fosse successo davvero qualcosa Mi stavo preoccupando Era solo un ricordo dei bei tepi In cui Insomma Appenitavo Il gioco stesso Mamma mia Cascun madonna Non so Ho incontrato più Cascun in questa serie Che allenatori C'è veramente allucinante E anche Omast Ne ho trovati Tanti Due Omast Ne ho trovati Trecento raga Oddio Io sono già A Roma C'è Non so tu dove Eh io sto Ammazzando un altro allenatore Perché io sono Raga Sono coglione Purtroppo Fin da piccolo Io fin da piccolo Ragazzi Ho sviluppato Questa necessità interiore Diciamo di dover affrontare Tutti gli allenatori Una coglionata Perché poi Tipo Perdo tempo Sto guardando i Pokémon Che ho cattuato Ve lo toghi più a Carvagna Allora aspetta Sì anch'io sono Orocea Vai ammazzo sti due qua Che sono Gorebis e Mewtwo No ma grazie No vabbè Tutti tipo lotta Mio sono beccati Cioè vabbè Bellezza Madonna raga Però curse Che shot a Mewtwo Non apprezzo Veramente Carvagna con splash Ok Bello Direi che possiamo anche Andarcene via Allora aspetta Che arrivo Orocea Perfetto Vado a controllare Perché mi è poco E poi facciamo la cattura Adoro c'erano Che possiamo farle Volvere giù Almeno Almeno per provarli Qua Più avanti Sì ragazzi Faremo un intero episodio Evolvere Pokémon Praticamente Prossimo Precisamente Esatto Allora abbiamo Io free wifi Che è fuoco acciaio Con che cattiveria Me lo stai dicendo Autodistruzione Bellissimo Direi che possiamo Anche chiudere A chiave Poi abbiamo Grazie Cabotops Di tipo roccia Mi piace Ma non c'è Porco 2 Ritirata Gran voce Riposo Confusione Aia Già ma non c'è Il Pokémon Marchet Non c'è il Marchet Eh raga Non c'è il Marchet E che faccio io E che Eroce che fa Si dimettere Ok io provo a farla cattura Nel frattempo A sto punto Sotto tocca a te Già ti concedo Questo onore Vai È solo che tipo Anzi io pesco Con il superon Eh infatti Anch'io pesco Perché non vengono fuori Pocom più che altro No perché lo c'è C'è il mare inquinato Ci buttano dentro I Marchet Le robe del Marchet Ci buttano dentro Ok Ha boccato un Pokémon Io scappato il Pokémon Madonna ragazzi Beh io ho il dato di provo Grimmar Vabbè si può evolvere Sì ma il fratello di Stalker Sto coso Ok Se vado a caso Aurocia c'è il mare inquinato Oddio è vero L'ha previsto L'ha previsto Questo lo chiamato L'aggetto Dio Lo chiamo Zaratustra Lo chiamo Sto Grimmar Zaratustra Ho trovato Electra Bello Zaratustra Che non è Che non è questo È tipo deve essere Il nome di un profeta Ah ok Ok Quindi Cosa religiosa Zaratustra Perfetto Catturo una poca Vado con un'altra Vado fantastico Ok io vado subito Luke Esci da camera tua Oddio Psicovolante Sì Gleap praticamente Sì beh è buono Psicovolante Non è molto brutto Come tal Dai però Da vista di vista Questo potrebbe essere Potenzialmente un buon pokemon In realtà Attenzione Ci sta Cosa è un leggendario Mi dico Non ci sta raga Cioè Ma che c'è Della Ok di qua sono già Sul 32 raga Tra l'altro In queste case qua C'era una persona Abbastanza utile Che dava una MN Se non sbaglio O una MN Forza Ci sono tutte poi Le correnti qua Da prendere Vado a correnti Vabbè raga Ovviamente non ci metteremo A esplorarlo tutto Cioè prendiamo La prima corrente Che ci capita Sotto tiro e via Ho preso Reactor Grazie Allee perfetto Siamo ragazzi Ma tre catture In questo episodio Lo chiamo Lo chiamo in reverse Perché è tipo Un po' Al contrario Ok io ho ottenuto L'MT27 Che qualcosa mi dice Che Cova uova Grazie Vabbè Viva la Pasqua Yes Ragazzi Perché stiamo registrando Tipo quasi a Pasqua Cioè appena dopo Pasqua E questo qua Lo vedrete tipo A fine maggio E siamo ancora Appunto Presi dalla Pasqua Vediamo un po' il mio Electro Intanto Si fa schifo Mi Tipo lotta Basta Oddio Abilità Menma Si conferma Ancora di più Non ci credo Ragazzi Io veramente Chiudete tutto Chiudete l'interno Raga fermate Rochat Io faccio il clickbait Di nuovo Su Rochat Profeta In questo episodio Che dite Raga assurdo Io ho preso Una corrente A muzzo Così Raga Vediamo una corrente 130 Ah ma Giob Tu hai fatto la cattura Già sul 132 No 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 Sono ancora in giro Per le correnti Eh ma Inizia subito il percorso Eh 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 Io sono in giro Per le correnti Faccio subito La cattura Io sto Ammazzando Ivi Sono qua Sono qua La faccio subito Dai Fatturiamo un po' Velocemente Stai catture Perché altrimenti Perché quando Quando faccio surf Non riesce a mai nessuno Quando pesco Perché Perché il tuo Pokémon con surf Evidentemente fa schifo La gente sa lontana Oh Brilum Va bene No Ho preso un'altra corrente Per sbagli Io è di peggiore Ah aspetta Famo una cosa Voliamo Aurocea E facciamo le persone serie Lo beccheremo Lo beccheremo Nella regione Allora Pazzo di prendere Cioè veramente Pazzo Ok dai Datemi sto Pokémon Vi prego Ok Trovato anch'io Golbat Non ci credo Ho appena Ah Hai appena trovato Un Crobat Due secondi fa Tipo Vabbè Ultraball Non riesco a prenderlo Che bella la vita Non riesco a prenderlo Catturato Brilum Che bella la vita Che bella Ok preso Golbat Come lo chiamo io sto coso Eh ma anch'io Come cavolo Chiamo un Brilum Cioè E pure femmina Golbat Maschio Un pipistrello Ma bo Lo chiamo Robin Brè Lum Lum Brè Mi chiamo Lo chiamo Lomb No Sto cavolo Lo chiamo Lomb Lomb Perché Brilum Lomb Ragazzi Madonna Uccidente Oh cristo Drago Ghiaccio Churem Attenzione Abbiamo churem Oh cristo Raggiù Aurora Pazienza Presa Extrasenso Vabbè Onesto Vabbè Luke Mentre tu pensi al soprannome Io me vuoi Insomma Dai Ma l'ho bello fatto L'ho messo Soprannome L'ho chiamata Coco E c'è l'articuno Madonna Perché l'hai chiamata Coco Non so Mi ricordava quella Di Crash Bandicoot Non so perché Ciao Proseguiamo Latios Che bellezza Muori Allora Vediamo un po' La La Tipo Elettro Madonna Ma che poteva andare di peggio Tipo Lotta Aspetta Ho visto una statistica abbastanza promettente 19 Di difeso Ok Niente Niente Praticamente Gli tiri Un attacco turbo sabbia E si scioglie Si scioglie Praticamente Adesso possiamo assistere a Gio Che presumibilmente è svenuto Ma Vabbè Chiamate il 118 Chiamate il 118 Chiamate il 118 L'abbiamo perso Pensavo stai dicendo qualcosa di serio Che stavo dicendo Aiuto Io No Spargisporno Cosa sei Una pianta Un clown Pianta Va bene Gio Riprenditi Ti vogliamo fare le prossime catture Raglio Ho trattato che hai catturato 132 Tu Nessuno ancora Io il 133 L'ho valsato E il 32 invece? 32 ho preso Golbat Si Ah E il 33 invece Nessuno? No 33 Ti ho preso una corrente L'ho valsato tutto Aspetta Ah già vedo che sei di nuovo Affanato Allora Aspetta Non so più dove sono Ok Penso di essermi ripreso ragazzi Penso Penso di essermi ripreso Pensavi Ho io un po' Ok anche io Aspetta Mi viene il dubbio Mi sa che sul 33 Non si può pescare Perché sono solo correnti No 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 Io te l'ho trovato una zona Eh ma io non ce l'ho Eh vabbè Sono finito Ok Sono finito al fantabosco Raga Raga Sono finito Mad keep Ok Su 33 hai trovato mad keep Si E io pesco Vediamo un po' Il fantabosco Avvocato Avvocato Adesso vedi che trovo Puoi sparare una strozzata Del genere Ti prego Al fantabosco Ho ottenuto Spoint Che sono contento Ho preso mad keep Mi sa Do l'hai preso Potevo 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 Fango pesce No Fare in ciclo C'è ancora Madone Potevo Fango pesce Come lo chiamo Potevo Fango pesce Raga Lo chiamo Tipo Dai Dai Zio Minimizzato Madonna ragazzi Madonna ragazzi Non c'è come che No niente Stavo scherzando L'hai preso Oh mio dio Ha cercato di fare abisso Oh che bellezza ragazzi Joe Questo spawn C'ha abisso Iperraggio Non è malaccio Comunque Ma come lo chiamo Mad keep Niente È morto Non si pone Il problema Come si chiama Mad keep Non si chiamerà più Mad keep Ok io sono sul 134 Luke adesso Io affronto questo coso Che mi mando Io mi sa che C'è ancora no Che sono in altre cose Già battuto Questa puttana qua Non ancora Perfetto Uh attenzione E violenza Mew Bene Mew Ok Affrontiamo Mew Raga Luke C'ha certe uscite Che veramente Voi non potete capire Aspetta giocati Sul 34 sei adesso Sì però sto ammazzando Sta qua con Arkana In Cristo Dio Mi sta Facendo malissimo Serio Ok perfetto Golduck Giù anche questo Qua No 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 Ah ok Non mi ha tolto due PS Ragazzi Hai perso anch'io Perso anch'io Joe Ultima cattura della parte Raga Olè finalmente Tra l'altro Alla fine Ne è andata a puttane Solo una Strano Per i nostri standard Sì Il meno 60 5 su 6 Ok hai trovato il pokemon Oddio Dragonite Bella Se trovo Farfetch Io veramente Ragazzi Veramente Non l'ha fatto davvero Non l'ha fatto davvero Che ha fatto No tu Se hai detto che trovi Farfetch Se trovi Farfetch Morito E un po' Che ci sta mettendo Un botto a uscire Vediamo un po' Ragazzi chi è Ci trovi che hai Farfetch Ovviamente Ok E l'arbitrar Buono Sì ma Dragonite Come cazzo faccio A indebolirlo Eh guarda che è molto difficile Anche l'arbitrar Che ci ha detto abbastanza usceno Cioè è brutto proprio Stai cercando proprio un pokemon Da poter Eh anche io Io per esempio non so di che tipo sia Potrei buttarlo giù subito Però ho quattro Ho quattro ultrabile solamente Preme quello Oh questo qua lo secca sul posto Vorrei poter L'ho catturato L'ho catturato subito l'arbitrar Prima ultrabile Grande Io potrei provare Un'eruzione Porco due La maledetta Fai attenzione Allora Provo a lanciargli un po' di ultrabollo Se riesco a prenderlo Poi li utilizzo per assisteme Spero l'ho preso Grande L'arbitrar e Dragonite Questa potrebbe essere una buona coppia Questa è buona Sempre che l'arbitrar diventi una mezza Insomma Ok Dragonite femmina Non so come chiamarlo però Eh Dragonite femmina È abbastanza particolare Come Non so perché Ma mi ispira Lilli Eh dai Non è Ma potrei chiamarla I Si è visto che è un personaggio Però mi ispira Lilli Non so per quale motivo Va bene così Va bene così C'era anche Diglett Che però Sappiamo già tutti che In cosa si evolve Io sono arrivato A Selcevoli E adesso c'è Che invece Sto cercando un supernone Per l'arbitrar Perché non volevo Chiamalo Aspetta Ash Tipo lo portava Nello zainetto Chiamalo Raksak 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 Zainetto E come What? Raksak Oppure Rook Rucy K Sack Credo Non sarà aspetta C'è un altro modo per dire Oddio non mi viene Vabbè Aspetta Invento un nickname Così Lo chiamerò John Eh John John Johnny 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 È quasi magia Johnny Io ritorno Oddio Io sono Verdezzupoli Non so te Io volevo volare A Orocea Mi spiego Allora vogliamo Tutti Orocea Ragazzi Che bellezza Facciamo gli alternativi Vogliamo Raduna Orocea Comunque ragazzi Noi speriamo Che questo episodio Vi sia piaciuto Io non ho più voce Attenzione Vediamo Concludo Aiuto Bye bye No vabbè ragazzi Comunque se il video vi è piaciuto Mi invitiamo a lasciare un mi piace Un commento Un'iscrizione A entrambi i canali Mi raccomando Passate ai sociali In descrizione Per rimanere sempre Aggiornati Sulle nostre attività Peculiari E premete Attenzione Attenzione La campanella Mamma mia La campanella Per rimanere sempre Aggiornati Sui feed Fermi che bevo Così Si finisce così In modo alternativo E molto speciale E noi ci mettiamo ragazzi In un prossimo video Bye bye Non ho veramente più voce Raga